Mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena. È il 203esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 162 alla fine. Il sole sorge alle 5 e 44, tramonta alle 20 e 53. La luna si leva alle 12 e 05, tramonta alle 23 e 46. Muore a Treviso Can Grande I della Scala, quattro giorni dopo averla conquistata. Valoroso condottiero spese quasi tutta la vita nelle guerre per la conquista del Veneto. Cinse Verona di Mura fece costruire la chiesa di Santa Maria della Scala. Protettore di artisti letterati, ospitò anche Dante ed ebbe per lui altissime parole di elogio. Per Vacanze dell'Anima, appuntamento domani ad Asolo con la rassegna Gioie Musicali. Venerdì 24 a Cassola, presentazione Progetto Slow Food e L'Albero Storto, una storia di trincea. La rassegna si chiude sabato 25 a Possagno, con una cena sostenibile. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino. Dal pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso, specie sulle zone montane e pedemontane. Precipitazioni, probabilità medio-bassa in montagna, bassa sulla pianura, specie centro-settentrionale, di qualche rovescio temporale nel pomeriggio sera. Temperature senza variazioni di rilievo in pianura e nelle valli, in live calo e in alta montagna.